Buonasera, bentrovati alle Tgmed Sport. La nona giornata in Serie B si apre con il pareggio per 2 a 2 tra Spezia e Brescia. Partita incredibile per le emozioni con lo Spezia in vantaggio grazie al rigore realizzato da Sansovini, poi il ribattamento delle Brescia con i gol prima di Scaia e poi di Coletti, entrambi con dei tiri da fuori aria e infine lo Spezia che arriva al pareggio proprio nei minuti finali con Ebagua e addirittura sfiora il 3 a 2 con Bovo. Che si divora un'occasione clamorosa. Dunque 2 a 2 tra Spezia e Brescia con la Serie B che è stata divisa in questo nono turno, addirittura in tre giorni, il posticipo serale tra Regina e Empoli, poi domani alle 12.30 cittadella Padova. Bari-Crotone invece inaugura le partite del pomeriggio alle 15 insieme a Carpi-Novara, Juve-Stabbia-Cesena, Lanciano-Ternanna, Latina-Modena, Siena-Avellino e Varese-Trapani. Chiude la giornata, la sfida tra Palermo e Pescara delle 20.30 e invece Carpi-Novara sarà il posticipo di lunedì sera. Dunque il Palermo domani sera alle 20.30 al Barbera contro il Pescara. Per Beppe Iachini tante le assenze, quelle dei nazionali Hernandez, Belotti, Verri e Angelcovic e del secondo portiere Uicani, ma nelle ultime ore potrebbe aggiungersi anche quella di Davide Di Gennaro. Un problema per lui decisiva sarà la rifinitura di domani, così come per Kyle Lafferty, il nordirlandese che il Palermo sta provando a recuperare per poterlo schierare accanto all'argentino Di Bala. In questo momento 4-2-3-1 sembra essere la soluzione scelta da Iachini con Sorrentino in porta, Morganella, Mugnoz terzi ed upper line difesa, Bolzoni, Barreto e Stefanovic a centrocampo, Di Gennaro, Di Bala e Lafferty con i due dubbi che abbiamo già raccontato. Nelle Pescara si blocca anche Maniero, dunque oltre alle assenze di Viviani, Ciosic e Zuparic impegnati con le nazionali ci sono fuori anche Sforzini e Piscitella. I dubbi sono in attacco, l'ex Mascara a sinistra con Padovan oppure Centravanti con Politano a sinistra. 4-3-3 per Pasquale Marino, Belardi in porta, Balzano, Schiavi, Capuano e Rossi in difesa, Nilsen, Viviani e Rizzo a centrocampo, Cutolo, Padovan e Mascara. Ascoltiamo proprio le parole dei due tecnici, Giuseppe Iachini per il Palermo e Pasquale Marino per il Pescara. La Serie B è un campionato molto molto lungo, i conti tra virgolette si iniziano un attimino a farli o a guardarli verso febbraio-marzo. E quindi ora è tempo di grande lavoro, è tempo di andare a ricercare tutte quelle componenti che fanno squadra. Per quanto ci riguarda è questo il lavoro più grande da andare ad effettuare, cercare di portare a conoscenza del campionato, a conoscenza di un certo tipo di disegno tattico che può essere quello più o meno giusto, anzi più giusto per le caratteristiche dei giocatori che avremo, abbiamo di volta in volta a disposizione. E quindi noi siamo ancora un cantiere, tra virgolette, in questo senso, un cantiere aperto dove c'è tanto lavoro da fare. Ma lo sapevamo e lo stiamo portando avanti. I ragazzi stanno dando disponibilità e quindi continuiamo su quel nostro percorso. Il Pescara a sua volta sta portando avanti un certo tipo di progetto già iniziato in preparazione e quindi sta andando avanti. Ha dei giocatori di ottimo livello, che non scopriamo certamente oggi. Sicuramente una squadra, un ottimo allenatore, quindi ci sono tutte le componenti per far sì che il Pescara possa fare un campionato di vertice. Ma se nel campionato cadetto si pone grande attenzione alla valorizzazione anche dei giocatori giovani, e quindi in questo senso mi sembra che poi le società hanno dei vantaggi, se possono schierare più giovani oppure tutto il calcio italiano parla di giocatori giovani. E poi nel momento in cui c'è una convocazione di una nazionale maggiore, quindi ti vanno via, ipotesi, un Hernandez, un Andelkovic, un Ucani, però ti gioca anche in contemporanea l'Under 21, l'Under 20 di serie B o di serie A e ti convocano dei giovani, ecco qua che c'è un controsenso. Ora dico, separiamo le partite, facciamo giocare una volta la nazionale A e convochiamo i giocatori che partecipano alla nazionale maggiore e quello sappiamo che magari li puoi perdere. Ma perché poi dopo io devo privarmi anche del giocatore Under 19, Under 20, che poi va con la nazionale stessa e perde l'opportunità magari perché manca un giocatore che magari ipoteticamente può considerarsi un titolare non gioca quello dell'Under 20. Mi sembra un po' un controsenso se ci andiamo a pensare, se ci andiamo a riflettere anche perché poi nella lista della rosa dei giovani sono un elemento che poi fanno corpo sotto l'aspetto numerico. Stiamo provando da 10-12 giorni diverse soluzioni perché la serie B è un campionato lungo, difficile dove in ogni partita ci sono tante partite da sapere andare a leggere, sapere interpretare. C'è successo con la Juve Stabia, c'è successo a Brescia e le dobbiamo sapere interpretare e andarle poi a cambiare noi, anche per non avere sempre quella prevedibilità e conoscenza da parte degli avversari che ci può far diventare anche piatto. Palermo è chiaro come punti hanno fatto più punti di noi nelle ultime due partite, diciamo così, che hanno cambiato il tecnico. Adesso noi stiamo bene perché la squadra lavora sempre bene con grandissima intensità, sono convinto delle potenzialità di questa squadra, sono convinto che faremo un buon campionato, quindi l'affrontiamo, magari sia noi sia loro con qualche defezione, però fa parte del gioco. Non si firma mai prima della partita in un risultato, è chiaro che giochiamo su... è un buon risultato, fare un punto al Palermo è un buon risultato, ma le partite prima si giocano. Viaggia a Varese il Trapani, dopo aver interrotto con il pareggio interno per 1-1 contro il Latina, la striscia di tre sconfitte consecutive, tornano i difensori Daí e Martinelli in forse Ciaramitaro che accusa ancora un fastidio alle Polpaccio, più sero del previsto invece l'infortunio all'Obue, lo ricorderete è stato operato ad Arezzo in settimana, al suo posto giocherà Garufo, 4-4-2 per Roberto Boscaia, Nord in porta, Garufo, Pajarulo, Martinelli e Rizzato in difesa, Pacilli, Caccetta, Pirrone, Nizzetto a centrocampo, Diuris e Mancosu in attacco. Nelle Varese c'è soltanto un dubbio, almeno un paio di dubbi per il tecnico Sottili, gli unici assenti sono Spenderhofer, Under 21 Austriaca e Blasi che è assente per la pubalgia, la Verone è a posto, si gioca un posto con Fiamozzi, Rea ha preso una botta alla mano ma sarà regolarmente in campo, allora 4-4-2 anche per Sottili, Bressan in porta, Fiamozzi, Rea, Eli e Franco in difesa, Zecchin, Corti, Damonte, Lazar a centrocampo, Neto Pereira e il Bomber Pavoletti in attacco. Sosta per il Catania perché la Serie A riprenderà soltanto nel prossimo weekend, a dire il vero, venerdì con Roma-Napoli, allora Maran ne approfitta per tracciare un bilancio di questa settimana in cui si è lavorato per cercare di recuperare anche i tanti infortunati. Le critiche quando non arrivano i risultati è normale che ci siano, ma quello che mi dà fastidio è il campo, il campo perché magari abbiamo lasciato qualcosa per strada, non per mancanza di volontà, non per mancanza, ma involontariamente abbiamo dato per scontate cose che non sono scontate, che vanno sempre ricercate sul campo, vanno sempre ricercate sul lavoro e questo siccome noi ci dobbiamo arrabbiare per le cose che ci riguardano, io essendo la guida tecnica sono il primo da questo punto di vista. Per cui ecco, questa è una cosa che mi ha dato fastidio perché noi abbiamo concesso qualcosa perché abbiamo pensato che le cose tante volte arrivassero perché le abbiamo meritate, invece vanno meritate tutti i giorni. Appuntamento domani su TRM13 a partire dalle 20 con il processo in diretta, con tutte le emozioni di Palermo Pescara in streaming anche sul sito trmweb.it, poi lunedì invece il solito approfondimento e tutti i commenti con rosa e nero alle 21.35 sul canale 14 e poi replica alle 23 sul canale 13. Non ci sono altre notizie, grazie per essere stati con noi e buona domenica. in realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in viale regione siciliana 2306. Per info www.rescaf.com.